Su Reddit si fa chiamare Dusty Deal e pensate che è un uomo il quale ha comprato dei prodotti su web, online, su internet, ma con il pacco che gli è arrivato a casa è arrivata una sorpresa davvero terribile, azzarda, a dire spaventosa. Infatti pensate che quest'uomo ha ancora comprato dei prodotti da un sito di e-commerce di una società cinese, ma ha ricevuto un pacco a casa che ha avuto nel quel pacco insieme una sorpresa veramente schifosa. Infatti pensate che dentro al pacco c'era un ragno, un ragno enorme, schiacciato, probabilmente era un ragno cacciatore, che ha il nome scientifico di Sprasside, in pratica questo ragno era morto diciamo così, però spiaccicato e grosso, era letteralmente gigantesco. Da lì di che così si fa chiamare questo utente su Vista e tu, da lì di che è rimasto scioccato, deluso, amariggiato e colpito, noncaffrato dal dolore. Bene, vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto. Può capitare, ma in teoria non dovrebbe capitare mai una cosa del genere. Penso che quest'uomo rimarrà fino alla sua morte, spaventato di quello che è successo. Baracaduto. Da Boston, Arato Vitariano di Tupitari Tutto. Ciao a tutti.